E questa cosa di oggi, quando i nostri amici vengono a giocare con tutti noi, è una cosa più bella che non ho mai avuto in vita mia. Attività fisica, socializzazione e, perché no, anche un pizzico di sano agonismo. Se Special Futsal fosse una ricetta, questi sarebbero i suoi ingredienti. Parliamo del torneo di calcio a 5 rivolto a persone con disabilità promosso dal Comitato Territoriale WISP di Arezzo che coinvolge le formazioni schierate dalle associazioni CAM, Electra, Pionta, Arcadia e Zorba. Il campionato, inaugurato lo scorso 18 novembre, vedrà la partecipazione di sei squadre che si sfideranno in un calendario di partite in programma fino alla prossima primavera. Ci fa particolarmente piacere perché riesce ad affrontare il tema dell'inclusione, un tema al quale noi siamo particolarmente sensibili come WISP e per questo cerchiamo sempre di creare occasioni per affermare quello che è un diritto di tutte le persone, quello del diritto allo sport, al movimento, all'attività fisica. Il punto di forza delle squadre è la formazione mista, composta da ragazzi con disabilità, educatori e volontari. Il calcio generalmente viene visto come lo strumento più importante per l'inclusione e l'integrazione. Noi abbiamo cercato in qualche modo di coinvolgere tutte le realtà sociali della provincia di Arezzo in modo che comunque coinvolgesse tutte le associazioni del territorio. Ormai sono mesi che si preparano e pensano anche di vincerlo perché il lato strettamente agonistico dal loro punto di vista non va messo in secondo piano. Ancora Michael, ancora Michael, ancora! Mentre dentro, mentre dentro!